Nel web ci sono profezie tra le persone che vanno a farle, c'è sicuramente Baba Banga, questa donna che molti già conoscono, che purtroppo non c'è più ovviamente, sono passati un sacco di anni, già fatto delle previsioni nel passato. E proprio una delle ultime riguarderebbe l'anno 2025, quello che ci apprestiamo tra pochi mesi di tempo a vedere. Infatti avrebbe profetizzato, pensate, lo scontro tra ben due nazioni europee del nostro continente dell'Europa che andranno a inasprire in maniera ancora più piena le tensioni a livello internazionale, portando a una escalation vera e propria che probabilmente porterà ad un terzo conflitto mondiale. Ok? Non saranno soltanto conflitti tra persone, tra esseri umani, ma secondo quello che la donna avrebbe profezie a Baba Banga, la terra potrebbe andare ad ingaggiare uno scontro anche con specie aliene, con gli alieni, che potrebbero andare a dare battaglia con un tercito tutto loro. Questo sarebbe quanto? Questa è la profezia che avrebbe fatto, per quanto riguarda il 25, la vigente Baba Banga, va bene? Con questo scontro di alieni e un terzo conflitto mondiale. Cosa ne pensate voi? Ditemelo, iscrivetevi, commentate, ciao!